di essere persone che entrano in questa casa allora mi chiedevano un omelette model jante, elisa i suori menunjukan che piawaiania della mamata di essere persone che entrano in questa casa allora mi chiedevano un omelette omelette sia quindi facciamo uova sbattute oggi con farina e latte, basta aggiungere queste due cose e poi niente, se la mangiano con il cosciutto crudo perché questo c'era per l'aperitivo e la mozzarella questo per dirvi che noi alle 15 ci siamo come vorrei dirti che torniamo a Bologna oggi parleremo di famiglia, non soltanto ascoltatela perché è una storia davvero molto interessante poi ci sarà anche un piatto a base di zucca stagionale e anche per Halloween a tra poco, vi aspetto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti